oggi abbiamo qualche altra piccola informazione riguardante la piccola tesla arriverà e poi qualche dettaglio molto interessante sulle 46 80 usate nel cyber truck parliamo di batterie ovviamente a tra poco bentornati a lampi di tesla proprio ieri sandy murro conosciuto anche come teardown titan cioè quell'ingegnere che è diventato famoso in periodo covid perché si è messo a fare video di dove nella sua azienda cosa che già faceva solo che l'ha reso pubblico smontava auto e in particolare ha cominciato a smontare anche le tesla con la prima model 3 che ha devastato proprio a livello costruttivo ma poi si è ricreduto successivamente beh insomma è stato alla presentazione del cyber truck e ha avuto la possibilità di intervistare ilon è uscita l'intervista proprio ieri vi lascio il link qui su nelle schede dura circa tre quarti d'ora allora vi dico subito che ho visto interviste migliori nel particolare ha parlato tantissimo sandy murro perché era super esaltato del cyber truck quindi diciamo che un po reiterato ha chiesto a ilon il perché di alcuni dettagli di come sono passati ai 48 volt di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate però ci sono secondo me un paio di aspetti che meritano menzione vi dico il primo e poi mi ricollego al secondo il primo riguarda la futura a questo punto comunque aspettiamo solo qualche dettaglio sull'annuncio i tempi e i numeri della piccola tesla quindi l'auto che è stata presentata tra virgolette come il vero punto di svolta questo lo ha detto anche ilon durante l'investor day del primo marzo e che dovrebbe costare intorno ai 25 mila dollari quantomeno negli stati uniti quindi poi bisogna fare le giuste proporzioni comunque a parte questo ilon ha detto ovviamente che non si può sbilanciare su tempi numeri prestazioni e altro però ci stanno lavorando continuamente sono molto avanti nello sviluppo ha detto che lui in particolare diciamo revisiona il progetto ogni settimana e che verrà costruita costruita inizialmente in texas a differenza di quanto già detto riguardo al messico cioè la nuova gigafactory sarebbe dovuta essere la prima ad avere questa nuova piattaforma e invece no sarà il texas e poi vi dico perché poi ci sarà il messico anche perché ovviamente la fabbrica in messico deve ancora essere costruita poi di conseguenza questa è una mia supposizione verrà costruita anche a berlino e a shanghai ovviamente perché si parla di una macchina di ad altissimi volumi di produzione e di vendita ora perché hanno deciso di costruirla innanzitutto in texas perché comunque le tempistiche della costruzione della giga messico sono andate stanno andando un po più per le lunghe e lo abbiamo visto anche nella scorsa earnings call dove ilon ha detto giustamente finché non c'è una maggiore stabilità macroeconomica è inutile cominciare a costruire una nuova fabbrica però la cosa che ha ripreso e ribadito cosa che aveva già detto appunto all'investor day è che la piattaforma costruttiva proprio sarà completamente diversa da quello che si è visto fino a oggi nella storia del mondo automotive che cosa porterà questa innovazione della catena proprio produttiva porterà ovviamente un abbassamento dei prezzi dei dei tempi di costruzione insomma tutto a vantaggio ovviamente del prezzo finale dell'auto e dei margini per tesla almeno io la leggo così mi ricollego alle tempistiche perché e questo riguarda poi anche la scelta del perché si è deciso di proseguire col progetto cybertruck prima magari di pensare alla tesla piccola il cybertruck vi ricordo è stato presentato a novembre 2019 e doveva essere commercializzato dopo due anni quindi entro la fine del 2021 beh ci hanno messo due anni in più però ricordiamoci che cosa è successo nel frattempo intanto è successo che c'è stata una pandemia mondiale e quindi ha bloccato tutti diciamo tutta la catena di approvvigionamenti a quel punto tesla non riusciva a produrre quanto serviva per soddisfare la domanda sto parlando di model 3 e model y collegato a questo quindi subito dopo c'è stata la crisi dei chip se ricordate quindi nessuno produceva più macchine praticamente tranne tesla nessuno consegnava più macchine i prezzi sono saliti alle stelle e tra l'altro anche in questo caso ovviamente con la domanda alle stelle tesla non riusciva a star dietro alla domanda ora in questo contesto non avrebbe avuto senso cominciare a costruire un nuovo modello se poi non riesci a produrlo giustamente perché se già non riesci a produrre 3 y che hanno una domanda che supera l'offerta non ha senso andare a presentare un altro prodotto quindi questa è la motivazione dei 4 anni aggiunto al fatto ovviamente di tutte le innovazioni che ci sono nel Cybertruck tutte le difficoltà e che quindi hanno portato comunque a un allungamento dei tempi in tutto questo contesto la tesla piccola ecco dove si inserisce si inserisce come prodotto successivo al Cybertruck e perché questo ci arriviamo analizzando le batterie sono usciti i dati EPA quindi la certificazione americana del Cybertruck abbiamo qualche dettaglio interessante sulle batterie e sulla densità energetica vi ricordo che il Cybertruck monta le batterie 4680 di produzione interna di Tesla quindi è un progetto in pieno sviluppo presentato al Battery Day nel 2020 ma vediamo un po' qualche dettaglio allora in questo foglio di omologazione è riportato che il pacco batterie ha un voltaggio di 816 volt quindi tecnologia 800 volt e che la capacità è di 150 ampere ora ora quant'è la capacità totale in wattora o meglio in kilowattora facendo volt per ampere ora otteniamo i kilowattora o meglio i wattora poi moltiplichiamo e otteniamo i kilowattora quanti sono? Esattamente quanto dichiarato quindi 122,4 kilowattora di batteria a questo punto mi viene da dire lorda Tesla aveva dichiarato ai vari giornalisti 123 quindi assolutamente corretto ma a questo punto a livello di pacco batteria quindi non a livello di singola cella perché è diverso a livello di pacco batteria qual è la densità energetica di queste nuove 4680 sviluppate apposta per il Cybertruck 170 wattora per ogni chilo e si stima un peso del pacco batterie di 720 chili parliamo di pacco batterie quindi compreso il raffreddamento eccetera eccetera quindi parliamo non delle celle moltiplicato per il numero di celle ma parliamo proprio del peso totale della batteria 170 wattora al chilo è tanto? è poco? bene sempre grazie a troite Slyke che trovate su X abbiamo un confronto allora per ora parliamo di batterie che lui mette a confronto il miglior rapporto quindi tra ovviamente la capacità e il peso densità gravimetrica è Model S e Model X con le 18650 cioè ancora diciamo quelle un po' più piccoline rispetto anche alle batterie che sono presenti su Model 3 e Model Y in particolare 187 wattora al chilo dopodiché arrivano quelle del Cybertruck quindi mi viene da dire ottimo lavoro per lo sviluppo delle 4680 perché siamo già a 170 wattora al chilo poi lui ha messo anche le batterie che usa Rivian che hanno lo stesso formato di quelle di Model 3 e Model Y che sono quindi 2170 ed è 169 wattora al chilo quindi molto simile poi viene Model 3 e Model Y Long Range 165 wattora al chilo qui si parla delle 2170 Panasonic quelle prodotte negli Stati Uniti in Nevada noi invece in Europa abbiamo le LG ma poco cambia e invece poi giusto per avere un confronto le LFP che tra l'altro hanno un formato diverso non è un formato cilindrico è un formato prismatico 126 wattora al chilo capite bene che anche quando parliamo di batterie LFP hanno vantaggi e svantaggi perché non mettono batterie LFP su versioni Long Range perché principalmente non ci starebbero e peserebbero troppo ecco questa è la differenza comunque mi viene da dire davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda lo sviluppo delle 4680 perché tra l'altro parliamo di un miglioramento tra il 5 e il 10% come densità rispetto alla prima versione montata sulle Model Y prodotte in Texas quelle col pacco strutturale ovviamente con i volumi siamo ancora un po' indietro e questo probabilmente è anche il motivo per cui il Cybertruck è arrivato un po' lungo il motivo per cui hanno deciso di fare una singola versione di batteria e poi metterci il Range Extender e quindi offrirlo solo a chi effettivamente ne ha bisogno e lo paga perché 16.000 dollari per il Range Extender non è poco però devo dire che siamo assolutamente sulla buona strada questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao